Ciao a tutti e benvenuti. In copertina c'è la vigilia di Milanello e qualcuno di voi dirà ma la vigilia di Milanello è domani, giochiamo domenica con la Fiorentina. Sì, lo so, ma questa è importante che sia una vigilia lunga, perché la partita di domenica è molto delicata contro un avversario lanciato, forte, che non è quello delle prime giornate, dimostrazione del fatto che il calendario dipende dal momento in cui ti rapporti alle varie squadre. Poi le squadre toscane contro di noi, leggevo che oggi Zanetti, l'allenatore dell'Empoli, dice che continuano a pensare alla partita col Milan. Va bene? È così, le squadre toscane nei confronti del Milan hanno questi approcci. Saponara, subito dopo la fine di Fiorentina-Salernitana, parlava già del Milan, perché Saponara vive vari momenti nel corso di una stagione, ma quando arriva al Milan lui sa che momento vive. E questa volta facciamo così, lo sappiamo anche noi, così lo sappiamo in due. Perché nello sport è bello così, è bello accettare le sfide e affrontarle sul campo, che è l'unico posto in cui è giusto e sacrosanto affrontarle. Quindi noi adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare questa partita. E poi fare di tutto per vincerla, anche se non sarà semplice. E poi metterci a posto, metterci a posto perché qua e là, non so perché, non so dove, la sensazione che noi si debba fare qualcosa per metterci a posto c'è. E certamente il ritorno degli infortunati, il ritorno della piena disponibilità della fascia destra, il ritorno del portiere, certamente faranno tanto. Poi il nostro allenatore, la sua sensibilità, le sue sensazioni, le sue visioni, cosa fare per migliorare chi è già nel Milan e cosa fare per trovare l'assetto giusto. Per carità, noi quest'anno, quando è servito, ci siamo affidati all'esperienza dell'anno scorso, abbiamo fatto grandi partite, il Milan con De Ketlare trequartista ha vinto il derby, il Milan con Krunic a sinistra ha fatto una grande partita contro il Napoli, il Milan con Brain Diaz a destra ha battuto la Juventus. Quindi abbiamo il nostro vissuto, le nostre conoscenze, il nostro zoccolo duro. Però nel corso delle nostre stagioni a un certo punto è dovuto succedere qualcosa. Per cui nella stagione 2021, nelle ultime partite, sprizza Brain Diaz e torniamo in Champions League. L'anno scorso, nelle ultime partite, sprizza Leao e abbiamo vinto lo scudetto. Però non è che Brain Diaz e Leao a un certo punto hanno preso la bacchetta magica. No, c'era la compattezza del gruppo, c'era il gioco della squadra, qualunque performance individuale nel Milan è sempre stata figlia del gioco della squadra, mai calata dall'alto e venuta a fare i miracoli e a spiegare al corto e all'inclita come si fa a giocare a calcio. Quindi dobbiamo evidentemente trovare le mosse giuste, l'assetto giusto, la crescita anche dei giovani che ci sono in squadra per arrivare a metterci a posto. E se il Milan saprà far bene contro la Fiorentina, da gennaio in poi ci sarà tutto il tempo per mettersi a posto. Altrimenti sappiamo bene che passeremo un mese in mezzo a discutere di Milan-Fiorentina e Dio non voglia, ma magari fa anche bene. Qualche anno fa abbiamo passato due mesi e mezzo a discutere di Milan-Geno e poi abbiamo fatto un gigantesco post-lockdown che ci ha generato poi un'onda lunga che ci ha portati poi veramente lontano. Però, insomma, senza produrre scenari che il venerdì non si possono produrre, pensiamo veramente a Milan-Fiorentina e poi a o rimetterci a posto o metterci a posto a seconda delle opinioni, a seconda delle considerazioni. Quella di oggi è la giornata dell'ufficializzazione del nuovo amministratore delegato del Milan. Giorgio Furlani, milanese e milanista, recita il comunicato ufficiale del club. La luce negli occhi di Giorgio Furlani quando parla di Milan, ve la raccomando, milanista di quelli intensi, milanista di quelli totalmente dedicati al fuoco che covano al proprio interno, nel proprio cuore, a sua volta dedicato e intitolato alla squadra. Poi naturalmente c'è tutto il resto, ci sono i tempi di lavoro, l'intensità, le visioni di lavoro, la sintonia con Red Bird e con Gerry Cardinale, che ha fatto una nomina importante in un momento chiave del rilancio del club. E quindi Giorgio Furlani rappresenta non soltanto la continuità, la migliore continuità del Milan, ma anche e soprattutto la catapulta in avanti verso le nuove sfide, verso i nuovi traguardi, verso i nuovi obiettivi che il Milan si pone. E quindi anche quella di oggi è una giornata importante, la vigilia di Milanello, perché oggi a Milanello c'era Ivan Gazzidis e certamente i giocatori hanno, ha avuto modo una volta di più di toccare con mano lo scorrere della vita all'interno del Milan, perché Ivan Gazzidis oggi ha fatto un discorso di vita, di umanità, di calcio, di sport e certamente i giocatori vorranno dedicargli qualcosa di importante domenica alla fine di Milano-Fiorentina. Una sfida sempre significativa per Stefano Pioli, una sfida in cui, parlavo prima di Saponara, ma attenzione, perché Biraghi, perché Benassi, perché Duncan, perché Terracciano, perché Buonaventura, perché Quame, perché Barac, sono tanti i giocatori che nel corso delle varie stagioni hanno fatto cose importanti con il Milan e proveranno a rifarle. Dobbiamo saperlo. Dobbiamo saperlo che per noi la partita contro la Fiorentina deve rappresentare quello che è stato il Salisburgo dopo la partita di Torino, cioè veniamo da Cremona, veniamo da Cremona dove ci sono milanisti a cui è rimasto ancora sul gozzo quel pareggio lì, quel pareggio lì arrivato da mancanza di guizzi, da mancanza di giocate per metterla in porta, perché poi, ripeto, il resto della squadra ha lavorato, ha prodotto, si è battuto in porta in difese a centrocampo tutta la gara, in porta, naturalmente per includere il portiere, non che il portiere sia stato sottoposto a chissà quali interventi da parte della Cremonese, però ecco, una Cremonese che a sua volta era molto rimaneggiata e che è riuscita a imporci lo 0-0. E questo deve suonarci come sfida. Avremo sette giocatori rossoneri al Mondiale, sette giocatori che sanno bene come il miglior modo per preparare il Mondiale sia rimanere caldi, rimanere in temperatura, rimanere in condizione, rimanere reattivi nelle ultime partite prima del Mondiale. Ringrazio tutti voi per le iscrizioni. Questa mattina non mi aspettavo onestamente l'obiezione perché ho sempre il timore di non essere chiaro, ma questa mattina pensavo di essere stato chiaro. Insomma, quel discorso che facevo sul blocco riguarda le offese, riguarda gli insulti, riguarda le etichette, quindi la libertà di ciascuna delle persone che fanno queste cose di avere altri interlocutori su YouTube o sul web. Però qualcuno mi ha scritto «Ah, ma non si può avere un'opinione diversa dalla sua, ma mancherebbe altro». Guardate che a volte per confrontarsi, sapendo che nel calcio nessuno di noi ha la verità in tasca. Nel calcio si possono pensare miliardi di cose nella stessa frazione di secondo e sono tutte con un minimo di fondamento. Io, per farmi un'idea di quello che pensa il tifoso rossonero, vado spesso su questa community. E anche e soprattutto da chi non la pensa come me, quando imparo e apprendo, quando è accetto, quando il ragionamento è sano, è limpido, è costruttivo, ha un suo capo, una sua coda, una sua coerenza, un suo modo di sostenere le tesi. Se invece si parte insultando me o soltanto per il gusto di dar contro a me, è chiaro che poi il dialogo si arena, ma è soprattutto da chi non la pensa come te che si impara. E io questo con voi lo faccio tantissime volte. E per questo vi ringrazio. Ciao a tutti, a domani.